tentativo di puntata speciale di narratrice nomade registrato oddio non avrei mai pensato di dover dire una cosa del genere oggi sono nel bar in disuso della fiera di longarone circondata da bottiglie bellissime ma chiusa in una stanzetta mentre intorno a me ci sono dei workshop di percussioni che probabilmente lascerò nel fondo musicale di questo di questo episodio sotto di me ci sono dei laboratori di musica indiana improvvisazione vocale su musiche indiane scale indiane e più o meno alla mia sinistra sempre al piano di sotto c'è un laboratorio di circle singing in atto dietro di me la sala podcast che abbiamo allestito con mettiamoci la voce per curare la narrazione audio di questo festival e io non ho la più pallida idea di cosa dirò in questo episodio la verità è che me la sto facendo sotto perché dopo domani saliamo sul palco e parleremo tra le varie attività che verranno raccontate di questo festival parleremo del circle reading che non ha fatto parte di questo festival in maniera operativa perché appunto i laboratori sono ancora in costruzione ma che debutta per la prima volta e lo fa sul palco di circle land festival a me viene mal di testa solo pensarci e questo episodio podcast sarà molto 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 confuso perché letteralmente non so come passare in audio e in voce la bellezza di ciò che sto vivendo che probabilmente si sente semplicemente dalla mia stanchezza o la voce stanchissima sto intervistando persone raccontando da quattro giorni ininterrottamente cantando a squarciagola nei circle nelle attività nei festival nei concerti nelle pause pranzo persino quasi canta anche nelle pause pranzo è una cosa incredibile e forse l'obiettivo principale è doppio da un lato voglio ricordarmi di queste emozioni e voglio fissarle in audio così con la voce rotta con la voce stanca con la nasalità di ogni volta che mi emozione mi viene da piangere se penso che sono in un festival del genere e lo devo alle collaborazioni che ho costruito nell'ultimo anno e mezzo e e a quanto la voce ha saputo regalarmi negli ultimi anni e dall'altro vorrei riuscire a passarti la bellezza l'emozione la potenza di questa tipologia di eventi nelle varie interviste che sto facendo in questi giorni è emerso tantissimo il concetto di potere di potere di libertà di espressione e di competenza trasversale in maniera indiretta perché si è parlato e si parla di come le varie attività prese singolarmente perché in questo festival che è dedicato alla voce e alla didattica e all'attività circolare c'è il circle singing c'è la body percussion c'è la drum facilitation quindi ci sono i cerchi di tamburi cerchi di voce i cerchi di beatbox i cerchi di canto indiano i cerchi di canto africano i cerchi di ballo africano ci sono cerchi di improvvisazione vocale di ogni forma e genere c'è il risveglio con il body contact al mattino c'è un lavoro continuo e costante sull'asse sull'equilibrio respiro corpo voce che non funziona solo sulla voce ma che funziona su tutto perché si indaga la profondità dell'essere umano si indagano le emozioni si indagano i preconcetti i bias i valori delle persone tutta questa roba viene messa in gioco attraverso tutte le forme di laboratorio che si provano in queste in questo festival ed è questo che vorrei passarti il fatto che a volte negli ambienti inaspettati che troviamo risposte che non sapevamo di volere qui il concetto di serendipità veramente si fa corpo in questi giorni arrivano risposte oserei dire quasi dall'universo ma in realtà arrivano da dentro quindi dalla nostra stessa consapevolezza domande che non sapevamo di avere ma che emergono in maniera naturale attraverso il lavoro fatto con la voce con il corpo con il respiro e con il cerchio il concetto più grande che voglio condividere con te è il concetto di cerchio aperto che permea questo festival hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando quello è un audiolibro fatto bene e io voglio scoprirne tutti i segreti sono valentina la musica volista tecnico della voce narrante facilitatrice vocale per narratori e di circle reading e questo è narratrice nomade un podcast che parla di voce di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore dico la verità mi sono incartata almeno sette volte nel fare la sigla perché sono talmente tanto abbraccio questa volta e talmente tanto emozionata che non mi ricordo quello che devo dire il concetto di cerchio aperto è geometricamente pensiamo al cerchio come a un qualcosa di chiuso e di circoscritto che chiude un sapere all'interno e che non lascia entrare all'esterno senza un permesso ma qui si fa esperienza del cerchio in tutt'altra maniera nella forma più democratica del cerchio nella forma più naturale del cerchio come quella di circolo di circolo continuo di ciclo continuo che ha quindi degli spazi degli spazi di ingresso e degli spazi di uscita e ciò che c'è all'interno contamina ciò che c'è all'esterno e viceversa e questo è proprio il concetto fondante di ogni attività che viene fatta qui dentro può non essere immediato come concetto passato in maniera così a parole in maniera nozionistica che tutto ciò che facciamo qui dentro si riflette in ciò che facciamo all'interno e in ogni altro ambito che non è vocale ma esattamente quello che succede quando si lavora con la voce in cerchio nelle interviste di questi giorni che sono state tantissime ho avuto il piacere di intervistare albertera stefano baroni francesco boldrer giulia beretta nikki franklin jane bentley basunda radas suracata di ubate marco forgione michele braguti samuele rosetti roberto calosso e anche altri collaboratori di questo festival bene in tutte queste interviste sono usciti dei concetti poetici assolutamente slegati dall'ambito voce o meglio vestibili su qualsiasi altro contesto e in qualsiasi altro ambito per il semplice fatto che in questo caso e in questo posto la voce non viene vissuta come un qualcosa di esterno come uno strumento come un accessorio la voce viene vissuta come parte della nostra personalità della nostra individualità della nostra espressione nel mondo e della nostra espressione legittima nel mondo qui parliamo di improvvisazione smantelliamo il concetto di errore di giusto di sbagliato di bello di brutto battiamo forte sul fatto che la perfezione non esista o meglio che la perfezione sia già qui che sia già ciò che è ciò che c'è e mentre io improvviso questa puntata sentirete un sacco di rumore alle mie spalle perché qui i laboratori non si fermano mai vanno avanti per cinque giorni ininterrottamente più i concerti e le attività serali si sta a stretto contatto con tantissime altre persone con le quali si crea una relazione basata sul suono basata sulla voce e non importano il passato o il futuro non importano gli obiettivi di ciascuno di noi si sta qui si fa voce si fa voce insieme e ci si lascia liberi ci si dà il permesso di lasciare libera l'espressione per conoscerla fino a fondo quindi in qualche modo questo festival è un festival per conoscersi e conoscerci attraverso la voce e il suono nel loro libero utilizzo la parte della tecnica la parte della performance esistono e sono collaterali a questo mondo e si lavora anche in questi ambiti ma qui in questo tipo di esperienze quello che conta è il vissuto il vissuto estemporaneo e l'energia di queste persone qualcosa di incredibilmente contagioso la motivazione la resilienza la passione che trasmettono sono regali preziosi che penso che ciascuno di noi dovrebbe provare almeno una volta nella vita da prendere conservare gelosamente nel cuore e riutilizzare per i propri obiettivi per le proprie passioni per le proprie espressioni libere da tutta questa esperienza tireremo fuori delle narrazioni audio ancora non hanno una forma perché ancora sono solo una marea di contenuti registrati e gelosamente conservati in un sacco di hard disk ma qualsiasi cosa esca io non potrò fare altro che suggerirti di ascoltarla per cercare di vivere un pezzettino di quell'energia fortissima che qui dentro si respira e soprattutto invitarti a frequentare un qualsiasi workshop di questi docenti in qualsiasi punto d'italia tu ti trovi sicuramente c'è un'attività circolare a cui puoi partecipare perché dopo questi giorni posso dirlo ancora con più sicurezza fare voce e fare anima e abbiamo bisogno di fare voce e fare anima insieme per capire come risuonare al meglio nell'interessere che ci lega per dirci veramente creature libere perché la libertà in questo caso la viviamo quando possiamo essere liberi di esprimerci e siamo liberi di esprimerci quando davvero sentiamo ciò che sentiamo quando siamo consapevoli di quello che accade dentro di noi e non ci vergogniamo del tirarlo fuori e lo esprimiamo liberamente ecco cosa mi porto a casa e vorrei trasmetterti di queste giornate attraverso questo audio che magari poi alla fine non pubblicherò nemmeno rimarrà solo un bel ricordo per me ma davvero abbiamo così poco tempo da passare su questa terra abbiamo così poco tempo per vivere pienamente per essere davvero ciò che vogliamo essere ciò che sentiamo di voler essere che le esperienze di questo tipo che ci arricchiscono e ci nutrono e ci danno la carica per provarci per davvero sono indispensabili nutrono a fondo l'anima le danno nuovi colori nuove sfumature nuovi sapori nuovi suoni e quando abbracci la forma del cerchio allora cominci a viverla in tutta la sua pienezza in tutti gli aspetti della vita e quello che ti porti a casa da queste giornate è un qualcosa che risuona forte rimane con te e non si spegne può sempre solo riaccendersi e riaccenderti se vuoi qualsiasi tipo di informazione sulle attività che sono state fatte in questi giorni se ti servono dei contatti se vuoi dei pareri se vuoi che ti racconti quello che ho vissuto perché magari ti incuriosisce una determinata pratica ma non sai di cosa si tratta e vorresti avere un piccolo riassunto o saperne qualcosa di più se posso aiutarti contattami sono solo che fiera di fare parte di questa rete e di poter portare con me con tanto orgoglio il simbolo di questo circle land festival che mi ha dato tanto e mi sta dando tantissimo in questi giorni come sarà andata sul palco quando presenterò il circle reading e te lo farò sapere in qualche altro episodio in qualche altro posto in qualche altro modo ma se hai partecipato sai che l'intento del circle reading è di riverberare il messaggio potente del cerchio e dell'attività in cerchio quindi se vuoi contattarmi per sapere qualcosa di circle land festival dei suoi partecipanti dei suoi docenti o delle attività del circle reading scrivimi come e quando vuoi mi trovi sulla musica volista puntocom su mettiamoci la voce punto it scrivo per seeing network scrivo per mettiamoci la voce magazine mi trovi su circle reading punto it sto diventando il prezzemolo praticamente ti mando un abbraccio circolare con cosa stiamo registrando oggi allora siamo con h4 dello zoom h4 n e stiamo usando un ultra voice di beh ringer ma io dovrò fare assolutamente una foto a questa location perché non mi ricapiterà mai più di registrare un podcast da qui ci sentiamo domenica prossima ciao 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 ciao